Uno dei primi obiettivi era quello di limitare l'ovviso. C'è riuscito? C'era un ragazzino che mi era sempre alle calcagne, però spesso nella mia carriera facendo quel ruolo lì ho avuto uno che mi marcava. Ho cercato di smarcarmi il più possibile, ho cercato di recuperare insieme alla squadra, perché ci sono stati dei momenti che abbiamo recuperato la palla con gli attributi, quello che ci aveva chiesto il mister, quello che abbiamo preparato, di cercare di alzare la cosiddetta garra. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa tre punti importanti, noi pensiamo a noi stessi e il gruppo sta crescendo sotto questo spirito, quindi andiamo avanti. L'ho detto Notari, la prima giocata, avete messo la partita nella vostra direzione, poi nel secondo tempo, insomma, un po' la vita ve la siete complicata con questa espulsione? Ma sì, mi sembrava dalla prima munizione che ha preso Andrea che avesse rubato la palla, perché nel momento in cui aveva battuto lui è stato furbo per rubare la palla. E' stato ammonito e quindi la seconda, ahimè, c'era e peccato, però veramente ho visto un grande spirito anche in dieci nell'aggredire, nel difendersi, nell'attaccare, anche con personalità fare qualche passaggio in più e penso che sia un buon punto di partenza per da qua andare avanti e pensare alla prossima partita. Ecco, dicevamo, dopo l'espulsione avete sofferto in maniera importante in quel quarto d'ora in cui Lozola è andato vicino almeno una volta al gol che avrebbe potuto rieprire la partita, poi dopo, insomma, tu, Perna, Gozzi, Di Erna, giocatori di esperienza, avete un po' suonato la carica, anche i cambi di Bollini hanno dato poi l'impronta finale alla gara. Ma penso una piccola sofferenza c'è stata nel momento in cui eravamo in dieci, un uomo in più si sente quando ci giochi contro, però veramente io ho visto grande partecipazione da parte di tutti, grande concentrazione e abbiamo avuto le palle per portare a casa ciò che ci meritavamo. La Pergolettese continua a vincere anche in maniera rotonda e importante contro Carpanetto 4-1. Una bella squadra, una bella squadra. Sembrano frasi fatte, ma noi dobbiamo pensare di partita in partita e pensare a noi stessi. Ti chiedo come stai, eri Reduce da un lungo infortunio, ti abbiamo visto bene, in crescita tra l'altro, durante la partita, sei partito un pochettino così un po' titubante e poi dopo sei cresciuto durante la gara. Mi sento bene, mi sento bene, ho recuperato, mi sono allenato ed ero sempre, anche quando ero infortunato, insieme a questo gruppo fantastico che sta crescendo, ero insieme a loro, ci tenevo a ritornare e la miglior maniera è quella di ritornare e vincere. Anche perché hai detto, hai sottolineato la valenza di questo gruppo, Bollini attinge a piene mani al gruppo e ha sempre risposte positive. Sì, sì, io ci credo veramente tanto, ci credo veramente tanto in questa parola, in gruppo, squadra, perché anche coloro che non stanno giocando li devo fare un grande applauso perché c'è una grande partecipazione da parte di loro, è difficile stare fuori, però veramente sono contento per la squadra e per questa vittoria. E allora, io dico che a livello di gruppo, Falanelli che è stato protagonista, tra l'altro, nell'azione del secondo gol, perché lui ha rubato palla e dato il via al secondo gol, insomma, ha bagnato questa sua prima male da titolare ai lui, con questa espulsione, tra l'altro mi sembra che il direttore di gara, soprattutto nella prima occasione, non si sia accorto di quello che è successo, insomma, e ha combinato un cartellino giallo immeritato. No, Andrea, ha grandi qualità, ha grandi qualità e come vi ho detto è sempre stato concentrato su quello che voleva fare, lo dimostra, di settimana in settimana l'ho visto crescere, ci sono giocatori che adesso stanno giocando di meno come Duca, come Zanoni, come adesso Endoi, ci sono giocatori giovani, interessanti, che sanno che cosa vuol dire vestire questa maglia, che sanno prendersi anche loro, essendo giovani, dalle responsabilità. E questa è una parola veramente importante, a prescindere che uno abbia 20 anni o 30 anni, perché qua la voglia e l'obiettivo è quello di vincere. Massimo, avanti così? Avanti così.